E' guerra di cifre tra centrodestra e centrosinistra sulla distribuzione delle risorse sanitarie regionali. Come è noto, la sanità pordenonese sconta uno storico gap rispetto alle più privilegiate aree di Udine e Trieste-Gorizia. Secondo uno studio a cui fa riferimento il centrosinistra, questo gap si è aggravato con la giunta tondo. La pensa in modo diametralmente opposto il presidente della provincia Alessandro Ciriani. Presidente, sulla perequazione delle risorse per la sanità pordenonese c'è ormai guerra di cifre. Qual è la verità? Non capisco questo gusto masochistico di essere sempre irriverenti, irrispettosi nei confronti dei dati ufficiali. Ma poi anche di parlare male sempre nella nostra provincia come Cenerentola. Non è vero. Non è vero. Certo, esiste una sperequazione nei confronti di Pordenone. Ma la cosa curiosa è che chi accusa oggi tondo di essere la testa della sperequazione è in realtà colui il quale ha creato la sperequazione, e cioè il centrosinistra. Secondo Ciriani, durante il governo Illi la sanità pordenonese ha perso 33 milioni, mentre con tondo ne ha guadagnati 7,5. Non solo. Voglio ricordare che in tema di sanità e di sociale, tra il 2005 e il 2008, quindi in piena era Illi, non solo abbiamo conosciuto il debito più alto del friule Venezia Giulia, portato a 1 miliardo e 600 milioni, una voragine immensa frutto della politica spendaciona della giunta Illi e dei suoi assessori, ma addirittura il divario in sanità è aumentato di 200 euro pro capite. Nel periodo invece tra il 2008 ed oggi, quindi nell'epoca tondo, questo divario, questo gap, è diminuito di 40 euro pro capite. Cosa significa? Che sì, c'è ancora sperequazione, ma finalmente è iniziato un processo che tende a ridurre questo gap, questo divario tra Pordenone e il resto del territorio. Questa è la verità. Questa è la verità.